Marco Galli, Anni Verdi, la società sportiva del quartiere Corvetto più attenta al problema dei ragazzini stranieri? Sì, la nostra società del Corvetto attenta e aperta, aperta a tutti, e a tutte le persone che vogliono vivere un'esperienza positiva, giocando, allenandosi, facendo fatica e rispettando delle regole che poi domani ti permettono di affrontare la vita con più serenità. Tu sei nato in questo quartiere, sei cresciuto e lavori in questo quartiere, quindi lo conosci benissimo e tracciane un quadro generale perché il quartiere finisce poi sui giornali per ben altri motivi rispetto a queste belle realtà. Sì, questo è un quartiere anziano, storico, che è la sua storia, in questo momento stiamo attraversando un po' un periodo di alti e bassi. In questo quartiere però c'è un'attività sportiva, ci sono dei bambini, ci sono delle famiglie che ogni giorno vivono, vanno a scuola, vanno a lavorare e cercano delle esperienze positive per i loro figli e per loro stessi. Quanti tesserati avete? Abbiamo circa 200 tesserati, compresi i collaboratori, saranno una ventina, trentina di collaboratori, il resto bambini e ragazzi. E le squadre? Abbiamo otto squadre di calcio, una squadra di pallavolo femminile, nel calcio abbiamo il calcio femminile anche. Che senso in questa isola felice del quartiere insegnate le regole? Cosa vuol dire insegnare le regole? Insegnare le regole vuol dire spiegare alle persone che le cose belle esistono e per esistere devono essere conosciute e rispettatevi, perché se no una cosa bella non potrà essere tale se non si è abbandonata un po' a se stessa. Questo significa per esempio di far pagare una piccola quota di iscrizione in cambio delle divise, di tutta l'attrezzatura? Sì, in cambio di un'attività. Noi ci appoggiamo al centro sportivo italiano che richiede un'iscrizione anche da parte nostra come società sportiva, quindi abbiamo dei costi e come lei diceva ci teniamo a vestire i nostri ragazzi, a dargli una rappresentanza e per questo è chiesta una quota di iscrizione. Ecco, questa è la società di un oratorio e come tutti gli oratori fanno un'attività molto importante in questo momento storico italiano, l'hanno sempre fatta ma in questo momento molto delicata. Ecco, è veramente aperta a tutti, cioè possono venire anche ragazzi ovviamente di altre religioni, non semplicemente stranieri? Sì, noi siamo aperti a tutti, sia l'oratorio e la società sportiva che sono la stessa cosa praticamente, è aperta ad ogni persona, ad ogni tipo di razza, religione, credo. Qua si viene per stare bene, condividere il gioco, un interesse e poi si è tutti amici, quindi l'interesse appunto è far crescere questi ragazzi, farli vedere dopo la scuola, farli vedere fuori dalla messa, farli vedere in un campo di calcio, una palestra e poi al lavoro. Ecco, siete in pratica una società di un po' di frontiera diciamo, ecco, e nei giorni passati quando ci sono stati gli sgomberi o quando c'è stata la rettata con gli arresti degli spacciatori, ne avete avvertite i fatti, anche se erano esterni ovviamente all'oratorio? Sì, si sono avvertiti, anche perché le famiglie che vengono qui da noi vivono delle situazioni di disagio, c'è stata un'attenzione particolare ai bambini che dovevano venire a praticare l'attività, ma l'attenzione appunto che è rivolta a questi bambini ha avuto un picco un po' più alto durante questi avvenimenti, ecco, rispetto alla solita attenzione.